Salve, bentornati all'interno della Camera della Regina. In questo momento siamo concentrati a osservare le immagini che ci sta mandando il computer. Possiamo vedere ciò che accade in tempo reale. Ma un minuto fa abbiamo visto una cosa molto interessante, vero Zai? Sì, è vero Laura. Abbiamo visto la firma e le impronte digitali degli uomini che hanno costruito le piramidi egizie. Stiamo parlando di quei segni rossi che dovreste essere in grado di vedere adesso. Alcune di queste sono le firme degli uomini che hanno costruito le piramidi. Quindi 4.500 anni fa qualcuno ha lasciato il suo segno? E noi vediamo molti segni come questi in tutte le piramidi sia dentro che fuori. Sono tutti indizi del passato, vero? Certo. Ma lo sai che una delle più grandi fonti di indizi sul passato si trova nel cimitero dove ci collegheremo con Jay Shadler? Questa è la grande piramide di Cheope. Mi sono spostata di circa 400 metri da dove mi avete visto l'ultima volta e se la telecamera inquadra qui potrete vedermi al lato della piramide. Mi sto dirigendo verso l'entrata. Devo ammettere che essere qui è davvero emozionante. Se confrontiamo la piramide di Cheope, non possiamo non chiederci dove si trovino il corpo e il tesoro. Questi sono solo alcuni dei misteri presenti in questa piramide. La squadra che stiamo per incontrare lavorerà per svelarli. Questa è l'entrata della grande piramide, ma non quella originale che fu bloccata dopo che il faraone fu sepulto. Questo tunnel fu scavato nella pietra circa mille anni fa e probabilmente conduce a quella che dovrebbe essere la stanza della sepoltura di Cheope. Ma per raggiungere la stanza dove la nostra squadra sta lavorando devo passare attraverso una serie di tunnel e cunicoli nel cuore della piramide. Sto raggiungendo il primo, devo salire questi gradini di pietra per raggiungere la squadra impegnata a risolvere il mistero del cunicolo segreto. Per la prima volta nel 1992 i misteriosi cunicoli della piramide furono esplorati da un robot tedesco costruito da Rudolf Gantenbrink sondando il condotto di 20x20 cm con una telecamera. A circa 65 metri il team tedesco però fu sorpreso nel vedere che il condotto era bloccato. La pietra non era franata ma sembrava appositamente tagliata per bloccare il condotto. Perché? Gli egiziani proteggevano qualcosa? Poteva condurre in qualche posto? Cos'erano quelle cose che assomigliavano a maniglie? Era una porta? Affascinato dal condotto misterioso e dalla lastra di pietra il dottor Zai Havas, egittologo e inviato del National Geographic, sognava di scoprirlo. Ho aspettato questo momento per tutta una vita. Con una sovvenzione della National Geographic Society è stato costruito per l'operazione un piccolo robot. È un meccanismo ingegnoso che può trasportare molte strumentazioni e telecamere. Il motore elettrico possiede due sistemi di trazione indipendenti, superiore e inferiore. Si può inoltre ridurre e ingrandire secondo l'altezza del condotto. Per settimane il team ha esplorato il cunicolo con il robot tecnologico. È ben equipaggiato per il lavoro, ma non sarà facile. La pietra si trova a 65 metri su un condotto estremamente ripido e raggiungerla sarà vincere solo una parte della battaglia. Una vera e propria battaglia! Bene, ho affrontato la prima parte della spedizione. Sono senza fiato. Sono salita per 36 metri, gradino dopo gradino. Ma ne è valsa la pena. Ora sono proprio al centro della grande piramide. Sono in quella conosciuta come la Grand Gallery. Potete ammirare questi impressionanti soffitti di pietra e le scale su entrambi i lati della galleria che conducono al luogo in cui venne ritrovato il sarcofago di Cheope. Cioè la stanza della sepoltura del re. Ma non mi dirigerò lì. Scenderò attraverso questo tunnel che vedete alle mie spalle verso la stanza della regina. Questa è chiamata la stanza della regina, ma in realtà la regina di Cheope non vi fu mai sepulta. E quindi non sappiamo con precisione a cosa servissero. È uno dei misteri che speriamo di risolvere questa notte. Sono a circa 15 metri dalla stanza, ma mi trovo già a 90 metri all'interno di questa massiccia struttura di pietra. La nostra squadra di archeologi e scienziati sta per lanciare il robot che dovrà percorrere il tunnel. Ma prima vorrei presentarvi un uomo molto importante, il direttore delle piramidi e anche il più importante archeologo egiziano, Zai Abbas. Laura, felice di vederti. È un piacere vedere te. Benvenuta nel mio paese, l'Egitto, e nelle piramidi. È stato duro arrivare qui, ma ne è valsa la pena. Siamo all'interno della stanza della regina e voglio raggiungere i nostri scienziati. Mi piacerebbe mostrarti il robot. È impressionante. Siamo alla fase finale della risoluzione del mistero, vero? Ecco che cosa accadrà questa notte. Questa macchina fotografica passerà attraverso la porta e scatterà le fotografie che cattureranno il cuore di ognuno di noi. Non vediamo l'ora. Ci stiamo preparando per mandarlo là sotto. Sì, camminerà attraverso questa piccola porta. Questa è la ragione per cui usiamo il robot e non me o te. So che sono stati realizzati molti progetti per questo robot. Impareremo qualcosa in più a tal proposito più tardi. Dovrà passare attraverso questo tunnel di 15 o 16 centimetri quadrati. Cosa accadrà? Il robot svelerà il mistero. Camminerà attraverso il tunnel e ci mostrerà per la prima volta l'interno della piramide e tutti i suoi segreti. Rivelare i misteri è molto divertente ma è anche una serie di investigazioni scientifica, non è vero? Sì. È la prima volta che usiamo un robot ad alta tecnologia per un lavoro come questo. La tecnologia del ventunesimo secolo ha la scoperta di... 4500 anni fa. È incredibile, ho una domanda per il dottor Zai perché so che anche le persone a casa se lo stanno chiedendo qualcuno ha dato una sbirciatina. No, ma ho già qualche idea, ne parleremo questa sera. Non credo che nessuno abbia scoperto esattamente cosa ci sia dietro quella porta. Ne sono tornati all'interno della stanza della regina nel cuore della piramide. Zai, come abbiamo detto, sei tu l'esperto. La domanda che tutti si pongono è cosa pensi di trovare dietro quella porta di pietra? Laura, siamo sicuri che quella porta è spessa 8,5 cm ed è protetta da due maniglie di rame il che significa che nasconde qualcosa di importante. E cosa pensi che nasconda? Ti dirò, se fossi ottimista penserei che il tesoro di Cheope sia nascosto qui e anche se non fossi ottimista e trovassi solo un piccolo corridoio o una cavità dietro la porta crederei comunque di aver fatto una grande scoperta perché qualsiasi cosa venga trovata per la prima volta all'interno della piramide è importante che venga vista da tutti. Quindi qualsiasi cosa sarà? Sarà importante. So che devi lasciarci. Devo lasciarvi, so di spezzare i vostri cuori. Lo so. Non piangere e non prendermi in giro. Aspetta il mio ritorno. Ciao. Cercherò di non guardare. Il dottore Abbas tornerà con noi nella stanza della regina quando la telecamera si avvicinerà alla porta e saremo vicini alla risoluzione del mistero. Quello che già sappiamo è che le piramidi furono costruite durante i primi anni della storia egiziana quando ancora non avevano le ruote o carrelli per sollevare queste pietre incredibilmente pesanti. È sorprendente la velocità con cui gli antichi egizi completavano queste strutture. Il cunicolo che la nostra squadra investigherà questa notte inizia qui nella stanza della regina dove sono io adesso. Ma se questa stanza non fosse stata per la regina come abbiamo già detto, allora per chi era? Una delle teorie stabilisce che potrebbe essere la stanza per l'anima del re. Questa teoria sostiene che una statua di Cheope si trovava proprio qui in questa nicchia. Gli egiziani credevano che una statua o un'immagine di qualcuno prendesse lo spirito della persona defunta. Se ci fu una statua, forse venne saccheggiata. Guardando dietro di me potete vedere dove i saccheggiatori scavarono un foro per cercare di raggiungere il posto dove pensavano ci fosse il tesoro di Cheope, ma non trovarono alcuna stanza segreta. La nostra squadra esplorerà un nuovo spazio nella piramide per vedere se dietro la porta ci sarà un tesoro. L'investigazione dipende solamente da un robot costruito appositamente da un team di specialisti. Alcuni mesi prima della spedizione, il team ha cominciato a lavorare a Boston, nel Massachusetts. Sono esperti nello spedire robot nei luoghi più inaccessibili del mondo. Il robot dovrà inoltrarsi per più di 60 metri in un cunicolo all'interno della piramide più famosa del mondo. Anche per loro è un lavoro fuori dal comune. È un progetto davvero ambizioso. Qualsiasi ingegnere sarebbe contento di parteciparvi. Il primo passo per gli ingegneri è quello di testare un robot, un prototipo, per essere sicuri che sia in grado di scalare il cunicolo. Deve percorrere solo 60 metri e raggiungere la meta con l'equipaggiamento necessario per scoprire cosa vi si nasconde. Il tutto dovrà essere contenuto in un robot che si insinuerà in un cunicolo di soli 20 centimetri quadrati. È difficile trovare la giusta misura ogni volta che pensiamo di aver raggiunto il giusto compromesso. Oddio, manca ancora due, un millimetro. Dobbiamo rivederlo di nuovo. Non sarà facile. Faranno pratica anche qui in laboratorio, facendo passare il robot attraverso sabbia, rocce e altri ostacoli. È veramente trick. Che è successo? Abbiamo fatto questo? Questo è probabilmente il momento più difficile da superare. Dobbiamo testare se il robot è in grado di sostenere la missione. Il robot sta affrontando la sfida. Simulando la situazione reale, testano se il robot è in grado di sostenere un peso cospicuo durante il cammino. In realtà questo macchinario dovrà sopportare un peso inferiore. Parliamo forse di soli 18 o 20 chilogrammi di peso. Questo è tutto quello che è possibile fare all'interno di un laboratorio. La missione reale li aspetta all'interno della più grande piramide del mondo. Eccola la grande piramide. Ci troviamo al suo interno, a metà strada, in un posto chiamato la stanza della regina. Il robot si trova ormai a tre quarti del percorso. Sono circa 180 minuti. Il robot della piramide è intelligentemente diviso in due parti. La parte anteriore assomiglia a un carro armato in miniatura. È la zona di forza. È progettato per raggiungere il ripido cunicolo di 40 gradi, portando dietro di sé il suo cervello in una specie di scatola nera elettronica. Il robot è dotato di cinque minuscole telecamere digitali per orientarsi e rimandare indietro immagini dettagliate del condotto e della pietra. Il capo del gruppo, Mike Bassett, non ha ancora imparato del tutto a usare il comando a distanza. Mi sembra come andare a lezioni di guida di una motrice a rimorchio. Ma fa subito pratica e lo guida su per il condotto per ben un metro e mezzo al minuto. Dopo aver percorso circa 50 metri, hanno finalmente avvistato la pietra che blocca il condotto. Ma raggiungerla era abbastanza difficile. Proprio davanti al robot c'era uno scalino alto solo 5 centimetri, ma per una macchina di soli 20 centimetri rappresentava una bella arrampicata. È uno scalino molto alto per il robot e da questa posizione mi è difficile guidarlo e farglielo oltrepassare. Non importa ciò che fecero, perché il robot non riuscì ad andare oltre. Dopo due giorni, diverse modifiche e svariati tentativi, finalmente ce la fecero. Ma improvvisamente qualcosa andò storto. Cavolo, sta cadendo! Il robot cade da 50 metri e il progetto sembrava compromesso. Ma inaspettatamente era quasi intatto. Il gruppo trovò la causa del guasto. Uno spinotto di metallo si era staccato. Le ruote avevano allentato la presa sulle pareti e il robot era precipitato. Il giorno successivo, con un nuovo spinotto e diverse modifiche, il robot è salito sul gradino senza intoppi. Pochi minuti dopo, Zai pote gettare la prima occhiata alla pietra e alle sue affascinanti maniglie di rame. Guarda com'è levigata la pietra. Fantastico. È un'immagine bellissima. Queste sono le immagini più dettagliate mai prodotte e il team di lavoro è stato in grado di fare una scoperta sensazionale. Da questa parte dell'angolo basso si possono vedere le ombre e osservare chiaramente che questa pietra è posizionata in un solco verticale sulle pareti. È una cosa interessante perché è come dovrebbe essere se fosse realmente una porta fatta scivolare dall'alto. L'esperta di rilevamento a distanza, Meg Waters, nota una sostanza anomala davanti alla pietra. Cosa pensi che sia? Credo che possa essere malta. Credo sia stata posta intenzionalmente. La malta che esiste sotto la lastra dimostra che c'è dello spazio. Sono sicuro che sia una pietra rimovibile e che sia stata spinta lì apposta. Ne sono sicuro. Forse era rimovibile quando l'hanno posizionata, ma la malta ora l'ha saldata. Vale a dire che l'unico modo che abbiamo per guardare oltre la pietra è applicare un piccolissimo foro per far passare una telecamera. Per poterlo fare, il team dovrà di nuovo modificare il robot a bosto. Conoscere nuovi particolari su cosa si cela dietro la pietra ha stimolato l'appetito di tutti. La squadra ritornò alla grande piramide dopo due settimane con un nuovo robot chiamato Pyramid Rover 2. Una delle più promettenti innovazioni fu la rampa per salire il gradino. Non può stare nel cunicolo per l'eternità, sarà recuperato facilmente alla fine della spedizione. La squadra voleva ricavare più informazioni possibili sulla pietra. Era una porta? Si muoveva? O era un grande e solido blocco? Ma più di ogni cosa volevano vedere cosa nascondeva. Questo solo se fosse stato possibile non creare danni alla pietra stessa. Avevano già provato ad esaminarla in ogni suo solco e saldatura come quella nell'angolo ma nessuna di esse faceva trasparire la parte superiore. In questo viaggio il robot trasportava un dispositivo per misurare lo spessore della pietra. Per operare un accurato rilevamento il rover doveva spingere con una forza di 18 kg. Alla mia destra. Aggiusta la rotta. Rezzerati. Quindi, mentre misurava lo spessore testava anche se la pietra si potesse muovere. Non si spostava. Poi, qualche buona notizia. Il dispositivo di misurazione indicò che la pietra misurava circa 8 cm. Forse perforarla poteva essere una delle opzioni. Ma Zai non ne era certo. Siamo sicuri che quella porta e spessa 8 cm e mezzo nasconde qualcosa di importante. A questo punto la squadra riprodusse una finta pietra e cominciò i test di perforazione. In meno di 25 secondi il robot aveva fatto un foro attraverso la pietra grande abbastanza per far passare una piccola telecamera e una luce. Ancora incerta la squadra ha provato a perforare diversi tipi di pietre alcune consumate come quella della piramide e altre in condizioni peggiori. Ogni foro fu pulito senza creare fratture. Finalmente il dottor Havas decise di proseguire. Armato di un trapano i robot si rimise all'opera per la sua più importante missione. Erano le 6 di mattina dopo 24 ore di turno tutti erano lì per assistere a questo evento storico. Sapevano che ce l'avrebbero fatta. Un buco perfetto e nessun danno per la pietra. Bene abbiamo appena sentito parlare della rampa adesso vediamo se il robot ce la fa e se la rampa funziona. Come potete vedere si sta avvicinando alla rampa. Greg è uno dei nostri tecnici. Che ne dici? Sembra bene. Sono stati fatti molti tentativi per raggiungere il design finale della rampa incluse valutazioni tratte da video di missioni precedenti e costruzioni di particolari modelli di gradini. Un duro lavoro ma sembra che funzioni. Il robot ha superato la rampa ora facciamo passare la telecamera e vediamo cosa c'è dall'altra parte. Abbiamo ancora tre metri da percorrere rimanete con noi. Il mistero del cunicolo segreto resta seducente come sempre. Siamo ritornati all'interno delle camere della regina. È il momento della verità vero Zai? Quello che aspettavamo tutti. La telecamera è allineata verso quel foro di due centimetri praticato attraverso la porta di pietra. Seguiremo la sua progressione attraverso il foro e scopriremo se la porta nasconde qualcosa. Guardiamo cosa accade. Le luci sono accese. La telecamera procede con la sua ripresa. Zai ci racconta cosa accade. La telecamera si sta introducendo nel foro ancora non vedo nulla. Adesso? Oh mio Dio guarda! Sentiamo degli scricchioli provenire dall'interno. La squadra di archeologi ha atteso questo momento per mesi e mesi e è incredibilmente eccitante. Cosa vedi Zai? Vediamo un'altra porta sigillata. Un'altra porta sigillata? Sì. Cosa sono questi segni sulla porta? Sono crepe crepe. Un'altra porta sigillata. Un'altra porta sigillata. Oh mio Dio! Un altro spazio. È un'altra porta sigillata. Credo che abbiamo fatto... Un'altra scoperta? Si vede qualcosa sul pavimento? Che succede? Sembra una porta. Guarda questo buco. Sembra che stia a sigillo di qualcosa. È incredibile. Sembra... Siamo di fronte a una nuova scoperta. Sono molto felice di aver scoperto un ulteriore spazio, una stanza. È incredibile! È la prima volta che uno spazio viene trovato nella grande piramide. Da quanto? Da 130 anni? Lo so, Laura. È molto importante. È qualcosa di cui sono molto orgoglioso. Finalmente abbiamo rivelato il primo mistero della piramide di Cheope. La domanda è cosa accadrà ora? Prossimamente studieremo questo. Scopriremo come rilevare gli altri segreti sulle piramidi. Ma l'importante è quello che stiamo mostrando adesso. Tutto ciò dimostra quanto queste persone fossero fantastiche. Abbiamo qualche idea su quale sia la funzione di quella porta? Perché ce ne sono due? Non lo so, ma sembra che nascondano qualcosa di importante. Ovviamente la ricerca deve continuare e noi vi forniremo altre informazioni appena il National Geographic ne avrà. Per ora vi dobbiamo salutare dalla stanza della regina. Bene, Laura. Buona fortuna. Hai fatto un buon lavoro. Grazie, anche a te. Torniamo a collegarci con Jay.